i cari amici di cdclassico.com ben ritrovati ad una nuova video recensione quest'oggi torniamo a parlare di cd e soprattutto di grandi cofanetti il presente davvero grande lo propone sony classical un'iniziativa tutta italiana scoprire i capolavori di mozart questo è ovviamente il proposito qui troviamo la suddivisione in cofanetti così in un primo colpo d'occhio capiamo subito quello che viene presentato e soprattutto i nomi piuttosto importanti che compongono questa mini discoteca essenziale dedicata a mozart troviamo davvero tutte le principali composizioni mozartiane eseguite da interpreti di assoluto valore vediamo il cofanetto come è fatto allora apriamo innanzitutto qui troviamo un poster con l'itinerari dei viaggi di mozart adesso non posso aprire tutto perché sarebbe davvero impossibile ma solo per farvi capire come viene appunto strutturato insomma ha viaggiato parecchio il nostro mozart come come si evince da questo poster qui ovviamente troviamo anche le tappe scusatemi ecco qui troviamo proprio l'elenco c'è la di sburgo poi insomma ci sono i famosi viaggi milanesi di verona torino eccetera 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 ok questo è un poster molto simpatico che si può ovviamente anche volendo incorniciare dopodiché vediamo quello che più ci interessa ossia il cd i cd sono tutti presentati in questo tipo di cofanetto ecco iniziamo dal volume primo ad esempio che presenta il concetto del pianoforte qui dietro noi abbiamo appunto il dettaglio dei quattro dischi e volume 1 non c'è un libretto non c'è né nel cofanetto questi sono semplicemente dei separatori di cartone ma il dettaglio noi lo troviamo ricordatevi sempre dentro cioè quando stacchiamo il disco noi qui abbiamo il dettaglio ovviamente le varie tracce esecutore quindi come vedete insomma esecuzioni di grandissimo interesse questo per quanto riguarda il cd1 qui ovviamente abbiamo il cd2 quindi attenzione a non confondersi perché chiaramente qui nel cd2 quando arriviamo cd2 qui dietro non c'è niente ma le indicazioni le troviamo sotto stessa cosa per il cd3 ovviamente cd3 è qui e cd4 è qui devo dire una idea piuttosto intelligente questa anche per risparmiare spazio perché ci sono tutte le informazioni che servono ovviamente prendiamo ad esempio il volume 5 che presenta come possiamo vedere concerti per corno quartetti quintetto stadler trio per pianoforte clarinetto viola suonate per pianoforte anche qui vediamo gli interpreti come vedete sono davvero moltissimi l'archi budelli quindi questa è un'esecuzione con strumenti originali davvero pregivolissima il famoso quartetto delle dissonanze insomma lascio a voi il piacere della scoperta ma se volete fare un regalo a un grande amante di Mozart o se comunque volete ad un prezzo assai ragionevole un piccolo spaccato della discografia mozartiana di grande di assoluto livello per arricchire comunque abbiamo una selezione ovviamente anche operistica nelle interpretazioni insomma staz cappelle dresden come vedete orchestra di maggio musicale ferentino ecco questa è un'iniziativa che fa davvero per voi penso un bel modo per riscoprire ecco Mozart forse questo è il forse si può dire così in maniera per scoprire Mozart attraverso esecuzioni di assoluto livello contenute in pratici cofanetti un bel modo credo per riscoprire Mozart per viaggiare con Mozart in un bel cofanetto che racchiude davvero il meglio che Mozart ha composto in esecuzioni di assoluto livello scoprire dunque i capolavori di Mozart che propone Sony Classical grazie cari amici alla prossima grazie a tutti grazie Grazie a tutti.